Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come risolvere i problemi della porta VGA ovviamente hai una porta VGA alla scheda madre però non riesci ad installare così il cavo alla porta VGA della scheda madre al monitor perché non funziona, perché bisogna scaricare e installare un driver per il sistema quindi in questo caso tu vai su System Information per capire che tipo di scheda madre hai nel tuo PC prodotto scheda di base, io ho la B450 Gaming Plus Max quindi in questo caso io vado a cercare questa scheda madre cerco la mia scheda madre, questo è il sito della mia scheda madre B450 Gaming Plus andiamo direttamente indietro per chi avesse la mia stessa scheda madre vado direttamente su Specifiche, se ricordo è su Supporto e qui ci sono i Driver Driver, Open Board, VGA Drivers in questo caso se hai una scheda madre diversa tipo che ne so un Asus ROG Strix B550 F Gaming torno un attimo indietro vado su Assistance Driver e Utilità scelgo così il mio sistema operativo qui c'è il LAN, Chipset, Audio e VGA Drivers quindi in questo caso se non sai come trovare il sito scrivi nei commenti la tua scheda madre posso trovarti il sito e mandarti direttamente il link della pagina per farti scaricare il driver quindi una volta fatto tutto andiamo a scaricare il driver per la nostra scheda madre quindi io vado a scaricare la mia e faccio Download ok, una volta scaricato andiamo sul desktop questo è il pacchetto RAR che ci ha scaricato tasto destro sopra tasto destro sopra WinRAR Extract to AMD VGA Driver e lo estraggo con WinRAR una volta estratto una volta estratta la cartella il fatto è che io adesso se vado ad installare questo driver non me lo dà perché non ha le specifiche giuste con l'hardware questa guida ti fa capire che una volta estratto questo pacchetto ti uscirà così la cartella e non devi fare altro che cliccare su Esegui come amministratore e installerai così il tuo driver ora sta facendo un rilevamento e ha capito che non supporta questa configurazione del sistema quindi nel prossimo tutorial ti spiegherò come risolvere il problema dell'audio sempre con questo metodo di aggiornare ed installare un driver per il tuo sistema quindi come ho detto se hai problemi a trovare la tua scheda madre scrivi la tua scheda madre nei commenti cercherò di trovare la tua scheda madre e ti manderò direttamente il link per scaricare il supporto per la porta VGA quindi se questo video ti è stato utilissimo iscriviti, lascia like e noi ragazzi ci vediamo in un prossimo tutorial ciao